Mi piace Big Draw perché c'è un entusiasmo enorme. Un'energia molto forte nel disegno. Vedo un sacco di gente che passa da un laboratorio all'altro con le mani sporche di colore, sorrisi. Nemmeno mi sono reso conto di quanti laboratori ci sono. Vedo che fanno tutti quanti sul serio, pensano che disegnare è una cosa importante. Questo mi piace molto.